Entro i prossimi dieci anni le persone in età lavorativa in Abruzzo saranno oltre il 10% in meno. Un decremento in linea con la tendenza in atto nel resto del paese, ma più accentuata del 2% rispetto al trend nazionale. E' quanto emerge da uno studio realizzato dalla CGA di Mestre che lancia l'allarme sui rischi derivanti dalla recessione demografica, con particolare riferimento alle difficoltà per le imprese di reperire giovani lavoratori da inserire negli organici. Un fenomeno che già oggi sta creando problemi e che nei prossimi anni rischia di aggravarsi irrimediabilmente. Ciò comporterà, avverte la CGA, un inevitabile rallentamento del PIL che neanche il ricorso alla mano d'opera straniera consentirà di scongiurare, senza contare che una società con meno giovani e più anziani dovrà fronteggiare un'impennata della spesa previdenziale, di quella sanitaria e di quella assistenziale, rischiando di mandare i conti pubblici fuori controllo. Sulla base delle previsioni dell'ufficio studi di CGA, nel 2034 in Italia saranno 3 milioni in meno le persone in età lavorativa. L'Abruzzo ne perderà 80.408. Il fenomeno sarà particolarmente accentuato al sud, dove il calo toccherà punte di oltre il 14% in Basilicata e Sicilia. Solo nei territori dove si registra un'elevata presenza di popolazione straniera la diminuzione risulterà più contenuta. Esaminando più nello specifico lo scenario abruzzese, la provincia dell'Aquila sarà quella più colpita, con una diminuzione delle persone in età lavorativa che sfiorerà l'11%, a seguire Teramo con un meno 10,5% e Chieti con un meno 10,3%. Il fenomeno appare più contenuto nella provincia di Pescara, dove è attesa una diminuzione limitata all'8,8%. di Pescara, dove è attesa una diminuzione limitata all'8,8%. Il fenomeno appare più contenuto nella provincia di Pescara, dove è attesa una diminuzione limitata all'8,8%. Grazie a tutti